è il 5 maggio e l'appuntamento si rinnova come sempre con il nostro almanaco e oroscopo santo del giorno sant'angelo da gerusalemme ciao a tutte e a tutti da mauro è il compleanno di adella della cantante lori blue atkins è nata in inghilterra il 5 maggio del 1988 e poi un allenatore molto verace uno stregone in panchina il 5 maggio del 1958 è nato serze cosmi la frase del giorno e poi l'oroscopo con la legna promessa non si scalda il forno ariete nessuna novità nel settore professionale al contrario la sfera affettiva vi riserva un incontro esplosivo probabilmente si tratterà di una bella avventura da vivere spensieratamente toro non peccate di faciloneria siete sicuri che tutto ciò che avete studiato o programmato sia bene impresso nella vostra memoria non rischiate di sciuparvi un weekend che potrebbe essere bellissimo gemelli fate attenzione a quanto avete sognato potrebbe essere rivelatore dei motivi della vostra attenzione anche se non è il cuore ma il filo della ragione quello che dovrete seguire cancro non fate passi affrettati e cercate di scoprire il lato piacevole anche nelle piccole cose di tutti i giorni un pizzico di fiducia in più e una più armoniosa verifica dei vostri impegni sono i consigli degli astri leone una certa aria di pessimismo tenderà a prevalere quest'oggi sui ritmi di lavoro il solito tran tran vi appare del tutto insignificante e si fa strada la voglia di mandare tutto al diavolo sappiatevi controllare vergine attenzione al borsellino potreste rischiare di dimenticarlo da qualche parte oppure di metterlo eccessivamente in mostra rendendolo facile preda di qualche manina per il resto tutto procede bene bilancia un consiglio per chi non ha ancora legami evitate oggi di volere dipingere ad ogni costo con i colori dell'amore un sentimento appena sbocciato e chi vi esalta proprio perché ha il sapore della novità forse non durerà a lungo scorpione giornata piuttosto faticosa specie per chi deve assolutamente assolvere ad alcuni obblighi inderogabili ci sarà tutto il tempo di divertirsi comunque stasera con una comitiva allegra e numerosa sagittario alti e bassi d'umore caratterizzeranno la vostra giornata fino a quando ricevendo una telefonata del tutto in attesa ritroverete il vostro sorriso più smagliante capricorno fra i compiti da portare a termine entro oggi viene uno che proprio non digerite sarebbe meglio chiedere l'aiuto di una persona meno coinvolta e quindi più obiettiva di voi acquario cercate di mettervi tranquilli per non rovinare la mattinata anche agli altri il vostro stato d'ansia svanirà come per magia dopo pranzo quando ritemprati e sereni affronterete meglio le ultime ore lavorative pre weekend pesci coltivate uno spazio tutto vostro stasera perché oggi vi attende una giornata da vivere a ritmo serrato alla continua presenza di estranei che in qualche momento potrebbero anche infastidirvi